Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video! Come avrete letto dal titolo, oggi andremo a fare un unboxing. Infatti mi è arrivato un pacco, anzi due, da Ufficio Discount. Questo è il primo e questo è il secondo che pesa di più dell'altro. Ufficio Discount è un sito online italiano che vende una marea di roba. A partire dalla cartoleria, o comunque i prodotti per la scuola, per l'ufficio, fino ad arrivare alle cose per giardinaggio, per gli animali o comunque per la casa. Ovviamente io ho scelto tutti i prodotti riguardanti la cancelleria e la scuola. Qui sotto in descrizione vi lascio il link al sito di Ufficio Discount. E detto questo direi di continuare con l'unboxing. Come al solito ho il mio taglierino a forma di fragola per aprire i pacchi. E qua abbiamo dieci quaderni a spirale di colorazioni in teoria a pastello, ovviamente a quadretti. Adesso ve le faccio vedere. Questo qua è tutto il pacchettone di quaderni, pesano proprio tanto. Allora innanzitutto sono della marca Blasetti, che secondo me fanno dei quaderni molto molto validi. E spero che la grammatura della carta sia bella spessa, perché a me piace scrivere su carta particolarmente spessa. Così è come si presenta. Allora, la copertina è molto carina, questo colore tra l'altro strabello. La copertina è in plastica morbida, flessibile, quindi comodo perché penso sia resistente. Aprendolo abbiamo una prima pagina di copertina bianca. Poi abbiamo le pagine. I quaderni pensavo fossero meno marcati. A parte questo dettaglio, i fogli hanno una grammatura di 80 grammi, che non è tanto, però va benissimo per un classico quadernone da scuola, da appunti. La particolarità di questi quadernoni a spirale è che hanno le pagine che si possono strappare e inserire negli raccoglitori ad anelli. Infatti hanno già i buchi fatti. La copertina sul retro è rinforzata da una base in cartone, però dietro c'è anche un altro pezzo di copertina in plastica, quindi ora vi faccio vedere tutti i colori. Oltre a questo azzurro abbiamo questo verde lime molto molto acceso. Ce ne sono due dello stesso colore, quindi due verde lime. Questo lilla è fantastico, è così pastello. Un azzurrino più chiaro. E un altro lilla uguale a quello di prima. Direi di passare all'altro pacco. Anche questo l'ho già aperto per comodità. Allora, qui abbiamo varie cosine molto molto belle. Iniziamo proprio con il botto perché in questa scatola c'è una bellissima confezione di Stabilo Swinkle delle colorazioni pastello. Per chi non lo sapesse sono la versione rimpicciolita degli Stabilo Boss classici. Sono senza la confezione. Questa qui è la punta e nulla, sono perfetti da mettere in astuccio. Come altra cosa abbiamo i fogli protocollo. Ho preso quadretti e righe. Poi abbiamo un acquisto molto semplice, ovvero queste tre gomme da cancellare della Stedler. Successivamente abbiamo una penna. Questa è una Bic Gelosity con punta 0.7, quindi abbastanza cicciottosa. Ovviamente è gel nera. Questo è un po' il packaging. Questa penna è molto ottima, solo che si asciuga un po' lentamente. Come altro prodotto ho copertine per i coderni. C'è le semplici copertine trasparenti. Solo che qua non hanno l'aletta quella per tenere la pagina, non lo sapevo. Nella scatola sono rimasti gli ultimi due prodotti. Come penultimo abbiamo queste brush pen. Le avevo già sentite nominare, sono della Bic. La particolarità è che sono colorazioni pastello, quindi in teoria sono strabelle. Leggo qua dalla confezione che sono a doppia punta, hanno la punta brush e la punta a pennello e vabbè, sono sei colorazioni. Si presentano con un packaging particolare perché hanno il corpo nero e poi hanno i due tappi colorati. Abbiamo questi colori. E ora andiamo a vedere l'ultimo prodotto. Questo è un organizer da scrivania. Come sapete sulla mia scrivania ho già un organizer trasparente con il porta scotch e porta penne, un po' di tutto. Però è un po' piccolo. Infatti è più grande di quello che ho. Purtroppo il video termina qui. Ora che siete arrivati a questo punto commentate qual è il vostro prodotto preferito. Io ringrazio molto Ufficio Discount per avermi inviato questi prodotti. Vi consiglio di iscrivervi al mio canale perché usciranno altri video di questo genere. Vi lascio qui tag ai miei profili social come TikTok e Instagram dove pubblico molte cose anche diverse da YouTube. Per oggi è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!